Ciao, sono Paolo Vacci e vi presento un camper che ho vissuto molto con le mie figlie piccole, l'Arca 716 GLT. Allora, andiamo nel suo esterno. Qua un contenitore laterale, come vedete un isolamento veramente di 4 cm e passa, quindi è un camper ottimo sia per l'inverno che per l'estate. Quindi, cliccate sulla vostra destra in alto che si aprirà la scheda del nostro sito dove troverete tutte le caratteristiche di questo camper, gli optional e le dimensioni e i chilometri. Poi iscrivetevi al canale YouTube che sarete sempre aggiornati di tutti i nostri video. Questo è il letto, il letto inferiore, questo guardate è la stoffa originale, è in perfette condizioni e qua si alza per farlo diventare un grande garage, per cui se avete bisogno di un grande, del quarto posto letto, questo è un grande spazio, ma anche come vedete qui sotto le misure vedrete la minima e la massima per poter stivare le vostre cose. Andiamo al suo interno, guardate che luminosità e abitabilità ha questo camper, una bellissima manzarda con tre finestre, un ottimo isolamento e un ottimo riscaldamento in manzarda e l'oblò nel caso di caldo. Un grandissimo oblò qui centrale e tanti, guardatemi, sono capienti questi pensili, uno, due e tre. Poi da quest'altra parte il portatelevisore e poi un altro grande contenitore, l'armadio, la cassettiera, un grandissimo lavello con un altro, diciamo, lavaverdure o cose del genere, tre fuochi, cassettiera, contenitore e contenitore col cestello, oltre anche ad avere il cestello, un porto e mondizi e un altro contenitore. sotto, qua sopra, c'è lo scaldavivande e poi un altro contenitore. Andando oltre, c'è questo bel contenitore, un bel piano d'appoggio e poi il frigorifero, congelatore e frigorifero. Come vi dicevo, qua un altro contenitore, piccolo pensile, come vi dicevo, c'è sia il letto superiore con la sua finestra che il letto inferiore con la sua finestra. Quindi quattro comodo e tre comodissimo, con bel garage. Qui, vari sportelli contenitori. Andiamo nel bagno. Allora, il piatto sia il lavandino che il piatto doccia sono un vetroresina, quindi qui c'è un bel lavello, guardate com'è molto bello, finestra e oblò sopra la doccia. Qua il water, qua un bel contenitore e sopra un altro contenitore con degli spazi. Poi, la doccia, eccomi qua. Ora qui c'è la stecca per appendere le cose bagnate, ma togliendola mi faccio una doccia veramente funzionale. E guardate quanti contenitori ci sono per mettere le tante cose. Quindi vi aspettiamo per farvelo vedere, questo è un grande camper costruito in maniera eccezionale, e un camper comodo da famiglia e venite a chiamarci o venite a vederlo, che con la nostra consulenza potrete scegliere il camper adatto alle vostre vacanze, la vostra famiglia alle vostre vacanze, come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!